E' sempre un piacere ritrovarsi, cari amici telespettatori, al mattino alle 7.30 insieme per sfogliare i giornali e lo faremo tra poco con la nostra rassegna stampa. Ma dicevo ritrovarsi al mattino, partire di casa e andare fuori casa informati su quello che succede nella nostra città, nella nostra provincia. Sarebbe bello sulla nostra regione ma insomma stiamo qui piedi per terra. Andiamo subito a vedere il santo di oggi e facciamo gli auguri a Sant'Antonio Maria Gianelli e quindi a quelli che si chiamano Antonio. Allora il sole è sorto alle 5.28, tramonterà alle 20.48 minuti, il tempo per oggi ancora è un po' perturbato anche se diciamo nella mattinata poi le cose miglioreranno, stanno già migliorando lungo la costa, soltanto ancora un po' di pioggia nell'entroterra, però diciamo che per la giornata di oggi avremo un cielo sostanzialmente senza pioggia, senza precipitazioni. Le temperature sono in diminuzione nei valori massimi, i venti sono moderate, il mare sarà poco mosso. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, ecco che la situazione ancora soprattutto al mattino domani e nel pesarese è un po' complessa, nel senso che ci sarà della pioggia, ci saranno rovescio temporali sparsi sulla parte settentrionale della regione ma in esaurimento nel corso della mattinata. Le temperature sono in diminuzione, i venti nord orientali di Brezza Tesa, il mare sarà molto mosso e mosso nel pomeriggio. Poi cambia il tempo, venerdì 9 vedete si spenderà il sole su tutta la spiaggia, su tutte le spiagge della costa adriatica marchigiana. Temperature in aumento nei valori massimi, i venti di Brezza Tesa, il mare sarà poco mosso, bel tempo anche durante il fine settimana. Cominciamo dal Corriere Adriatico questa mattina con la prima pagina che parla dell'effetto Torino sulle piazze della nostra provincia o meglio sapete che c'è la mezzanotte bianca dei bambini, a Pesaro si attende dunque l'invasione in centro storico, in piazza del popolo a Pesaro, di tanti tanti piccoli che andranno in piazza per festeggiare. Ebbene c'è questa disposizione da parte del prefetto di Pesaro Luigi Pizzi che ha convocato un vertice d'urgenza sulla sicurezza dopo i fatti di Torino, piazza San Carlo abbiamo visto e lo vedremo tra poco ancora qui sui giornali che cosa è successo. A centro pagina invece le casette che arrivano ma la rabbia arriva prima per il sorteggio a Pescara del Tronto, scene di disperazione tra i terremotati per 26 moduli, la protesta dei borghi devastati, ritardi inaccettabili, persone che sono ancora fuori casa e poi sotto la testata un po' di sport con la vispesero per la panchina Pensa a Palladini. Entriamo dentro e subito la pagina dedicata alla convocazione ieri mattina da parte dell'Ordine dei Medici del dottor Massimiliano Mecozzi. Lo vedete qui, ieri ad attenderlo c'erano giornalisti, giustamente giornalisti e fotografi. Mecozzi ha suggerito ai Bonifazi di portare Francesco in ospedale, l'omeopata sceglie la strada del silenzio anche di fronte all'Ordine, per lui però parla l'Avvocato, il suo legale, sotto lo vedete in questa foto, Vincenzo Carella di Fabriano. Entro cinque giorni Mecozzi dovrà presentare la memoria difensiva, intanto continua ad esercitare la professione medica. Il convegno sull'omeopatia fa storcere il naso ai luminari, Clemente dice l'Ordine sia più vicino alla medicina tradizionale, Battistini dice noi non centriamo l'ingresso dell'Ordine dei Medici di Pesaro in Galleria Roma. Eccola qua. Allora, l'altra pagina, ne abbiamo due dal resto del Carlino, ve le faccio vedere insieme. Come dicevo, vedete, Mecozzi atteso dai giornalisti ieri mattina di fronte alla sede dell'Ordine dei Medici. Allora, dicevamo, fa scena muta, il Presidente dà cinque giorni a Mecozzi per difendersi, l'omeopata all'audizione mi dica le domande e il legale invece lo blinda. Esplode la rabbia del nonno del bimbo morto, ho i brividi pensando ai piccoli curati da lui. Il medico cambia strategia, ho detto alla madre di Francesco di portarlo in ospedale. Battistini è stato sentito in procura a Urbino per tre ore dai PM Feltreschi sulla storia di Mecozzi, l'unico a cui ha risposto il medico omeopata è sul primo quesito, lo ha detto anche Battistini ieri nel nostro telegiornale in collegamento telefonico e ha detto sì, è vero, Francesco l'ho curato io. Questa è l'unica cosa che ha detto, poi non ha detto più niente. Come si muoverà adesso l'Ordine? La Commissione disciplinare deve decidere se aprire un procedimento su Mecozzi e poi sanzionarlo, oppure se aprirlo e attendere gli esiti dell'inchiesta penale. Dunque c'è anche la strada chiaramente della magistratura. Poi sul Corriere Adriatico questa mattina c'è una pagina dedicata all'attentato a Fano TV. Ecco la verità di Zaccarelli, una storia, dice lei, fantascientifica, nessun amante. E dice hanno reso invivibile la mia vita, ma mi rifarò. Questa è la pagina del Corriere Adriatico di oggi, pagina 4. Qui c'è anche un selfie, dove vedete il selfie ironico di Lepore, di Lucera e Zaccarelli, pubblicato su Facebook. Con il collaboratore dell'emittente, dice, solo confidenza degenerata per soldi. Lepore invece aggiunge accanimento contro di noi. A caccia d'impronte invece adesso sui biglietti della 14. Oggi al via i rilievi della Polizia Scientifica. La pagina di Fano invece, due morti in tre mesi, ora è emergenza. Simona Ricci della CGL Will sull'incidente della Profilglas che è costato la vita a Cangiotti. Qui in effetti due morti nel giro di pochi mesi fanno saltare l'emergenza, fanno venire fuori l'emergenza. Una verifica straordinaria sulle condizioni di lavoro all'interno dell'azienda. Si indaghi su quel decesso, dice la senatrice Camilla Fabri, senatrice del Partito Democratico. E poi aveva dato fuoco a due ristoranti, patteggia ma resta in carcere il 29enne Lettone che aveva dato fuoco per la Bella Napoli e il Tiravino a Fano. Due ristoranti che si trovano in centro, tre anni e 300 euro di multa, ma come dicevamo appunto resta in carcere. La CGL chiede la verifica della sicurezza alla Profilglas sul Corriere Adriatico. La pagina di Fano non si può morire di lavoro due volte in tre mesi, cordoglio del sindaco alla famiglia della vittima. E poi c'è la protesta dei pescatori, programma per domani, fischia la protesta in porto. I vongolari sono in rivolta per il mancato dragaggio. Venerdì le barche suoneranno le loro sirene. Quindi venerdì quando c'è la bassa marea si può vedere tranquillamente il fondo del porto pieno di sabbia e di fanghi. Si ricostruisca invece, siamo a Fossombrone, si ricostruisca l'edicola religiosa abbattuta da un camion. L'appello è dei cittadini, il comune acceleri le pratiche. Questa è l'edicola che c'era prima e qui invece vedete la fotografia di adesso dove c'è soltanto un mazzo di fiori che i cittadini continuano a portare nel luogo dove prima c'era l'edicola con dentro l'immagine, un'immagine religiosa. È stata abbattuta da un mezzo pesante, raccolti i pezzi caduti per terra e adesso si spera nel suo ripristino. In cenere più di 8.000 quintali di balle di fieno. L'incendio è divampato ieri sera in un capannone. Ha mandato in fuma circa 8.000 quintali di fieno, 2.500 balle, nell'azienda agricola di Lindo Romiti e Figlio, in località Strada Santa Maria, a Molino di Malla. Stasera vi faremo vedere anche le immagini, tra poco anche su internet, su occhialanotizia.it, vi faremo vedere le immagini di questo rogo. La prima pagina del resto del carino di Pesaro invece è per i cronisti campioni. L'iniziativa del resto del carino, campionato di giornalismo del carino, vince la Padalino di Fano, seconda la Gaudiano e terza la Tonelli di Pesaro. Ma è davvero un successo per tutti. Effetto Torino sulla mezzanotte bianca dei bambini, presidiata la piazza dei bambini, da venerdì migliaia di famiglie in centro, rafforzato anche il piano della viabilità, divieti già che scatteranno da domani. E a proposito di piazza, effetto Torino, c'è il racconto di Erika e Federico che sono stati travolti dall'onda umana, persi nel caos, si ritrovano con Facebook, lei di Pesaro, lui di Vicenza, si conoscono a Torino. Poi il panico, la preoccupazione e l'appello sui social. Da Urbino, l'ira di Vittorio Sgarbi, eccole tante cose che ho fatto per questa città. Il critico assessore attacca l'opposizione e sciorina l'elenco delle manifestazioni. Proprio davvero c'è tutto l'elenco, una per una, sulla pagina di Urbino del Corriere. Poi invece da Senigallia, arrestato il pusher del Rione Porto, finisce a Montacuto, il carcere insieme al complice, fermati in auto dai carabinieri, il conducente era al cellulare, scatta la perquisizione domiciliare per entrambi, sequestrati mezzo mezzetto di cocaina e 99 semi di marijuana. C'è troppagina invece i vigili del fuoco che hanno in mano un piccolo gattino che è stato salvato perché intrappolato nel vano motore. E sotto le prostitute, sotto le finestre alla cesanella, esplode la protesta, tensioni con i residenti che chiedono al sindaco di Senigallia interventi. Lo ricordiamo, c'è un regolamento che ha adottato il Comune di Senigallia che prevede multe da 400 a 500 euro, ma l'intenzione è quella di punire non tanto le prostitute quanto i clienti. Tant'è che nessuno dei clienti, scrive il Corriere questa mattina, ha ricevuto queste multe a domicilio. Per le squille invece l'importo ammonta a 50 euro, proprio perché l'obiettivo dell'amministrazione è quello di punire la clientela. Allora, sempre da Urbino, torniamo a Urbino, minaccia un vigile è stato condannato. Se ce l'avete con i vigili, è meglio non dire non ti conviene mettermi contro di me. Perché, per esempio, questo 29enne che ha rivolto questa minaccia tenendo tra l'altro in mano un coltellino, questa fa la differenza, un vigile urbano di Urbino, ebbene, gli è costato 5 mesi di reclusione con pena sospesa. Il vigile gli aveva sottratto le chiavi della motocicletta per impedirgli di andarsene. E quindi ieri mattina, così come riporta il Ducato, è stato condannato a 5 mesi di reclusione, pena sospesa per resistenza aggravata pubblico ufficiale per aver rifiutato di dichiarare le sue generalità. Dalla Valle del Cesano, invece, questa è l'ultima pagina, confronto soft tra i candidati, ignorato il tema della sanità, Cion e Sebastianelli si limitano a una rassegna delle questioni senza alcun affondo. Stiamo parlando della campagna elettorale per le prossime amministrative che dovranno eleggere due sindaci nel territorio della provincia di Peso Urbino, quello di Terre Roverische e di Colli al Metauro. La rassegna stampa finisce qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia.